E questa è la giusta fine del sindacato del crimine. Grazie al ritorno della Justice League e all'aiuto di amici molto speciali. Sono Clark Kent. È bello essere tornato. Lois? Patelico! Grazie! Allora, Batman, Darkseid è sistemato? Per adesso tutto sotto controllo. Il sindacato del crimine la cercava. Non sappiamo che cosa sia. Faremo condurre le analisi alla Wayne Tank. Poveri sciocchi. Hanno rivelato la posizione di quello che cerco. L'ultimo pezzo dell'equazione dell'antivita. E presto sarà mio. Steppenwolf! Ah! 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 Tu non me l'hai mai permesso di guidarla Ma è fantastico riaverti Ne sei proprio sicuro? Vedi se trovi qualcosa alla Lex Corp e rispedisci quella cosa da dove viene Andiamo Robin, dobbiamo riportarla nel luogo da cui è stata rubata e poi condurre ulteriori test Intendi la Wayne Tower, vero? Credi che una scatoletta del genere possa davvero essere importante al punto da causare tutto questo? In realtà ci spero Grazie a tutti 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 Dobbiamo uscire Grazie a tutti Grazie a tutti Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Nessun problema, per gente esperta come il sottoscritto. Ehi, che succede? Non ci starete abbandonando, vero? No, dobbiamo occuparci di ospiti inaspettati. Non ci starete abbandonando, non ci starete abbandonando. Non ci starete abbandonando, non ci starete abbandonando. Ok, cerchiamo di non dividerci ancora. Non possiamo rischiare di perdere il nostro super amico. In realtà, sembra che il nostro amico non abbia battuto ciglio un attimo fa. Oh, fantastico. Altri guai in vista. Pensi che ce la faremo? Certo, io di sicuro. Andiamo. Sì, detto fatto. Quanto deve essere critica la situazione per far sembrare me quello responsabile? Oh, tutti. Ah! Oh! Oh! Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 andiamo gente via da qui non è sicuro presto mettiti a riparo io non mi tratterrei qui se fosse in te bel lavoro ragazzi punti extra per tutti è bello riaverti con noi se la recluta finisse nelle mani di dark side sarebbe un bel guaio un guaio sarebbe anche poco dovremmo fare qualcosa al riguardo tieni il passo tu grazie 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 Riderei dei vostri sforzi, se solo non fossero così patetici. Ecco, c'è un troppiano con voi. Nemici in avvicinamento. Creature miserabili, non mi prenderete mai! Ora vedrete il mio vero potere. Credete che questo inutile tentativo servirà a qualcosa quando Darkseid governerà l'universo? Così trattato? Ecco, c'è un troppiano con voi. Porrò fine alla vostra sofferenza. Vediamo come ve l'accavate con i miei animaletti. Questa situazione non mi piace. Catwoman sta attenta. Spero vi piacciono gli animali. Oh oh, non penso li abbia trovati in un negozio di animali. Non crediate che essere sopravvissuti finora significa che avete qualche speranza di vincere! Forse però potranno tornarci utili in qualche modo, Batman. Stavo pensando la stessa cosa. Proviamo ad aizzarli contro il loro padrone. Vibili contro il loro padrone. Oh, cosa è successo? Razza di... E ora mi sbarazzerò di voi! Perché godermi solo io questo sconto? Servi, prendeteli! Sapete contro chi vi siete messi? E ora mi sbarazzerò di voi! No! 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 E ora mi sbarazzerò di voi che io combatto per conto dell'onnipotente Darkseid! Voi invece rappresentate l'insignificante razza umana! Non c'è parac... Cosa... cosa è successo? Razza di... No! E ora mi sbarazzerò di voi! Essere sfidato da gentaglia come voi è un vero insulto! Forse riuscirò ad assemblare qualcosa di utile utilizzando questi pezzi di scorta! Ci penso io! E ora mi sbarazzerò di voi! Non crediate che essere sopravvissuti finora significa che avete qualche speranza di vincere! Ah! Così! Questo non dovevate farlo! E ora mi sbarazzerò di voi! 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 E ora. Tu non hai con te l'equazione dell'antivita. Tu sei l'equazione dell'antivita. Luthor! Luthor! Il caso vuole che abbia un treno da prendere. Luthor! Grazie a tutti. Grazie a tutti.